Buonasera da Onda Tg, apre il cantiere di casa Zaccheo, la struttura che ospiterà persone in stato di bisogno, sorgerà sul Mona in via Porta Romana, l'attuale sede della Caritas Diocesana. Sentiamo tutti i particolari nei servizi. Comincia a prendere piede in città il progetto di casa Zaccheo, la struttura che nell'arco di due anni sorgerà in via Porta Romana, opera concreta per persone in stato di bisogno. Nei giorni scorsi il cantiere è stato inaugurato con la benedizione del Vescovo di Smunavalva Angelo Spina e del direttore della Caritas Diocesana, Don Palmiero Amatangelo. Anche la dioce si guarda la sicurezza sismica dei suoi edifici. Lo stabile di via Porta Romana, che finora ha colto la Caritas, sarà demolito e costruito ex novo. Per ospitare le persone, è stato di bisogno la curia, punta infatti su una struttura sicura. Il prossimo 3 dicembre i lavori dovrebbero entrare nel vivo per poi concludersi, stando al cronoprogramma nel 2019. I fondi raccolti per costruire la struttura sono quelli della Conferenza Episcopale Italiana, la CEI, fino a 500.000 euro. Il resto è arrivato dalla generosità dei fedeli. Un esempio tangibile di Casa Zaccheo si trova a Popoli, con l'edificio che è stato inaugurato lo scorso febbraio e ospita parenti di detenuti con permesso breve e degenti in cura presso gli ospedali del territorio. L'avvio del cantiere di Casa Zaccheo arriva proprio alle battute finali del Giubileo Straordinario della Misericordia come opera segno di carità. Con l'inizio dei lavori in via Porta Romana cambia la zona di accesso alla Caritas Diocesana. Si entra in Viale Roosevelt e da lì si accede anche per recarsi alla mensa che non interrompe il suo servizio. E ora tracciamo il bilancio sui numeri della Caritas e sul neonato sportello dedicato ai migranti in diocesi. Gli stranieri sono circa 5.000. Il punto. Arriva il report dell'immigrazione nel centro Abruzzo. Sono più di 5.000 gli stranieri presenti sul territorio, di cui 300 sono migranti, fra richiedenti asilo e rifugiati. Numeri che hanno spinto la diocesi, una valva attraverso la Caritas Diocesana e l'ufficio migrazioni, ad aprire uno sportello per migranti e stranieri. La pastorelle delle migrazioni rivolge la sua attività alle persone coinvolte dal fenomeno della mobilità umana, in particolare gli immigrati stranieri e profughi, gli immigrati italiani all'estero, in Oma di Rom. Suo scopo è anche quello di stimolare nella comunità civile la comprensione e valorizzazione della loro identità in un clima di pacifica convivenza rispettosa dei diritti della persona umana. Con le diverse iniziative Caritas e Diocesi cercano di assicurare l'assistenza religiosa ai migranti italiani e stranieri per promuovere nelle comunità cristiane atteggiamenti e opere di fraterna accoglienza nei loro riguardi. Lo sportello curato da Don Filiberto in Imbasciama è aperto il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30. Il 43% delle persone prese in carico dalla Caritas sono proprio straniere, mentre il 57% italiane, più donne che uomini, 65% contro 35%, complessivamente il numero degli assistiti è cresciuto vistosamente nel corso degli anni. Nel 2008 erano 188, nel 2015 più di 2.000. Sono circa 30 i pasti erogati ogni giorno nella mensa di via Porta Romana, più di 10.000 all'anno. Non pochi centri di ascolto che aprono le porte a Bisognosi. Sul territorio cittadino e diocesano, Cristo Re, San Francesco di Paola, Maria Santissima Auxiliatrice, San Giovanni Nacapestrano, Santa Maria della Tomba, nelle parrocchie si incontra il gran numero di volontari. Ora la cronaca vandali nazioni in Vico Sardi a Sulmona, distrutta completamente un'insegna commerciale, è il secondo episodio che si verifica nell'arco di tre anni particolari. E andare ad aprire come ogni mattina la sua attività di Vico Sardi ha trovato l'insegna commerciale completamente scardinata e distrutta e quando è accaduto a Sulmonese Andrea Tella che per l'ennesima volta subisce l'attacco dei vandali. L'ultimo episodio risale al 2013, una scena raccapricciante, frutto della non curanza di una notte di trasgressione che non è andata giù all'esercente. Immediata la telefonata al 113, gli uomini del commissariato di via Sallustio ne seguono i rilevi di rito e a breve dovrebbero acquisire le immagini delle telecamere di video sorveglianza di un locale per risalire ai responsabili. Stavattina sono stato avvertito telefonicamente, gentilmente, da Barti Marzio, la persona che lavora lì, mi ha detto guarda Andrea che l'insegna è per terra ed è completamente distrutta. Chiaramente sono arrivato qui alle nove, ho chiamato subito la polizia che ha fatto la sua indagine, ha fatto i rilevi, ha fatto le foto e tutto, ho fatto denunciare con gli ignoti aspettando che poi qualche telecamera magari abbia ripreso i colpevoli di questo ennesimo atto di vandalismo che nei miei confronti, che già nel 2013 è stato il primo atto di vandalismo, l'insegna solo di velta, questa volta di velta e distrutta. I residenti della zona avrebbero riferito al commerciante le scene della notte di vandalismo. Soltanto adesso è passata una signora che è stata qui sopra con il figlio e mi ha detto stavolta è successo il figlio di mondo, i ragazzi hanno fatto un grande commedia qui sotto, litigavano e poi sono divertiti con la tua insegna, proprio a saltarci sopra. Chiaramente lei, essendo una donna, non è riuscita perché è per paura. Tella rinnova l'appello agli antipreposti, il centro storico di notte deve essere controllato. L'appello si può fare, ma questo è un andazzo in tutta Italia, il suo mondo lo rappresenta alla grande. E mi meraviglio che non si faccia una cosa, vado predicando da vent'anni, lasciare aperto il corso per noi commercianti il giorno e chiudere la notte con pattuglie e sorveglianza per tutta la zona. Visto che succedono episodi molto più gravi, accoltellamenti, di tutto di più sta succedendo sul Mono. È uno schifo. Ci spostiamo a Prato la Peligna, consorzio di bonifica, mozione non discussa, chiesta alla convocazione del Consiglio dei Delegati. Sentiamo meglio nel servizio. Convocare immediatamente il Consiglio dei Delegati per consentire la discussione della mozione di sfiducia al fine di scongiurare eventuali azioni e risoluzioni, compreso lo scioglimento degli organi di amministrazione a cui la stessa giunta regionale, quale organo di vigilanza e controllo, nel frattempo potrebbe pervenire ravvisando nei presupposti. È un passaggio della lettera dei sei consiglieri del Consorzio di bonifica interno, Aterno Sagittario, con sede a Prato la Peligna, che chiedono al Presidente in carica, Fiorenzo Schiavitti, di convocare il Consiglio dei Delegati. I sei hanno disertato la seduta consigliare nei giorni scorsi, facendo venir meno il numero legale. La convocazione del Consiglio dei Delegati per la discussione e votazione della mozione di sfiducia rappresenta non una sua facoltà, ma l'adempimento di un preciso obbligo giuridico, fanno notare Ernesto Zuffata, Donito Le Santis, Nicola Lucci, Ennio Nicola Cianfaglione, Marco Iacobucci e Giovanni Salutari a Presidente Schiavitti. Francamente sfuggono all'umana comprensione le motivazioni che la inducono a pensare di poter continuare ad amministrare questo ente, pur avendo avuto la piena consapevolezza di non godere più di alcuna maggioranza insieme al Consiglio dei Delegati, ormai da diverso tempo, e proprio a causa della forma di gestione dell'ente della IA adottata, caratterizzata da gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli della funzionalità ed efficacia dell'attività amministrativa, che hanno determinato il venirmeno della fiducia politica nelle capacità di mantenere un'azione presidenziale ispirata ad imparzialità, traducendosi in comportamenti caratterizzati da protagonismo individuale, faziosità e partigeneria, aggiungono i sei consiglieri. Un braccio di ferro che continua in seno al Consorzio. Chi la spunterà? E intanto il Consorzio ci riprova, si va al voto il 15 gennaio, la deputazione amministrativa proprio stamane ha fissato la data delle nuove elezioni. Sentiamo le servizi. È deciso al Consorzio di Bonifica Interno a Terno Sagittario, con sede a Prato-La Peligna, si vota domenica 15 gennaio 2017. Lo ha stabilito stamane la deputazione amministrativa, che ha fatto ripartire il procedimento elettorale, è sospeso lo scorso 30 settembre e ha fissato la nuova data. Per due volte le elezioni consortili sono state convocate e annullate. L'ultimo stop è arrivato direttamente dal Tar che aveva sospeso l'appuntamento elettorale in forza del ricorso presentato da Delmo Castagna il candidato escluso dalle liste. I giudici amministrativi, in seguito, hanno annullato la sospensiva, poiché non competenti in materia, rimettendo la decisione al giudice ordinario. La decisione della deputazione amministrativa, spiega in una nota il presidente Schiavitti, è stata adottata dopo che il Tarrabruzzo ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso di Delmo Castagna riguardo la sua esclusione dalla competizione elettorale. Fra non molto a questo punto si farà avanti di nuovo l'esercito dei candidati. Fra gli elettori è salito e malcontento per il doppio rinvio delle consultazioni. I vertici dell'ente si augurano che questa sia la volta buona e che venga sfatato il noto saggio popolare che recita non c'è due senza tre. E ora torniamo a Sulmona per fare il punto sul post-sisma MUSP a gennaio per gli alunni dell'Istituto Masciangioli arriva il via libera dall'ufficio di Fossa. Sentiamo i particolari. Arriva l'ok dall'ufficio speciale per la ricostruzione di Fossa per i moduli provvisori da allocare nel comune di Sulmona e quanto è venuto fuori nel corso del vertice istituzionale di giovedì scorso fra il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini l'assessore comunale ai lavori pubblici Mario Sinibaldi e il direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione di Fossa Paolo Esposito da Palazzo San Francesco dovranno presentare l'apposita domanda per accedere alla linea di finanziamento e richiedere i moduli provvisori per gli alunni dell'Istituto Masciangioli. L'obiettivo è quello di accelerare i tempi per trasferire la popolazione scolastica a NIMUSP già da gennaio al termine delle festività natalizie. Ci siamo lasciati con l'impegno di dar seguito a quanto già stabilito noi faremo richiesta di accedere ai finanziamenti per i MUSP partecipando in parte anche con le nostre spese e da Fossa ci hanno assicurato che l'istruttoria sarà portata avanti in tempi brevi annuncia l'assessore Sinibaldi. Sull'entità dei fondi tutto è ancora da definire. Resta da valutare anche la collocazione dei MUSP sul territorio comunale. Al momento l'unica soluzione proposta da Palazzo San Francesco è quella del piazzale dell'ex caserma Cesare Battisti che sembrerebbe la strada più percorribile. Stop alla centrale e al metanodotto Snam il gruppo scout di Sulmona scrive una lettera al presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi e lo invita in città. Vediamo tutto. Con lo scopo unico di preservare e valorizzare il nostro territorio quale culla di beni culturali e zone verdi stiamo quindi partecipando insieme ai nostri concittadini alla lotta contro la costruzione della centrale di pompaggio del gasdotto di proprietà della Snam questo è uno dei passaggi della lettera che gruppo scout Gesci Sulmona 1 ha spedito al presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi pregandolo di fermare la realizzazione della centrale del metanodotto Snam i giovani scout chiedono spiegazioni al capo del governo sull'utilità di opere così impattanti e sono pronti a recarsi di persona a Roma o in alternativa invitare Renzi a Sulmona per chiarire la questione davanti alla città i contenuti della missiva scritta da Sara Dascanio Sara Micarella Luisa Salce Martina Bonadia Benedetta della Valle Cecilia De Kellis Francesco Antonetti Martina Merolli Luigi Di Genova Benedetta Bonadia e del Capi Clan Roberta Di Cenzo e Paolo Di Pasquale sono stati illustrati stamani in conferenza stampa la presenza del sindaco di Sulmona Anna Maria Casini dei rappresentanti dei comitati cittadini per l'ambiente del vescovo di Sulmona Val Vangelo Spina Abbiamo avuto l'occasione di focalizzarci sul territorio e soprattutto sul nostro territorio Abbiamo chiesto al presidente come è possibile diciamo che possa accettare la costruzione del metano d'otto in una zona come la nostra essendo anche lui il nostro fratello maggiore e scalda Come intendete portare avanti questa battaglia? Il nostro impegno non finirà qui noi infatti ci regheremo a Roma se non avremo una risposta da lui o addirittura lo inviteremo a vedere con i suoi occhi il nostro meraviglioso territorio Quale appello parte dal gruppo scout per coinvolgere magari altri giovani? Speriamo che magari veder d'impatto la loro esperienza sia d'aiuto anche per gli altri e cerchino in qualche modo di immergersi anche loro in questa battaglia contro la SNAM È stato un punto di partenza speriamo che anche altri ragazzi si facciano portavoci come loro di lasciare il mondo un po' migliore di come lo hanno trovato Per il gruppo scout arriva il plauso del sindaco Cassini e del comitato di cittadini per l'ambiente che hanno consegnato ai giovani una pergamena in segno di gratitudine Al futuro dobbiamo guardare con i loro occhi quindi i ragazzi sono sicuramente degli importanti partner degli importanti interlocutori Benvenga quando le giovani leve si preoccupano della tutela e la salvaguardia del territorio e sono un po' anche da monito forse a quegli adulti a quella politica un po' sorda che forse sta trascurando un po' troppo questo problema Cambiamo argomento 113 le opere esposte nel premio internazionale Sulmona aperta nel pomeriggio l'edizione numero 43 c'era per noi Gaetano Trigiglio Al via a Sulmona la rassegna internazionale di arte contemporanea premio Sulmona 2016 giunta alla 43esima edizione una delle rassegne d'arte più prestigiose a livello internazionale definita da Vittorio Sgarbi la maggiore rassegna oggi presente in Italia nonostante le incertezze economiche che hanno messo in forza la realizzazione dell'evento la rassegna costituisce un vero record con 113 opere esposte e partecipanti provenienti da tutto il mondo l'inaugurazione della rassegna si è tenuta come di consueto nel polo museale civico di Ocesano ex convento di Santa Chiara a causa del tempo incerto gli organizzatori hanno spostato la manifestazione al coperto rispetto al solito l'appuntamento è flittato di qualche settimana per consentire la presentazione del catalogo della Pinacoteca Comunale opera curata da Cosimo Savastano e dato alle stampe a cura dell'editore Verdone il numeroso pubblico ha affollato gli spazi accanto al cortile di Santa Chiara godendo di un bel pomeriggio dedicato alla grande arte moderna e contemporanea la manifestazione è stata ben condotta dal giornalista Ennio Bellucci è un patrimonio per questa città e come altre manifestazioni che affondano le loro tradizioni ormai in un passato lontano sono dei monumenti veri e propri da preservare sono quei beni materiali che questa città deve saper cullare saper saper mantenere e far crescere naturalmente allora io credo che la qualità delle opere presenti alla 43esima edizione del premio Sulmona sono di rilievo e di qualità quest'anno io ho la percezione esatta che la qualità sia nettamente migliorata e questo è un premio internazionale che merita questa bellissima cittadina di Sulmona questa edizione è molto bella come diceva Maurizio perché la qualità delle opere è piuttosto alta nelle linee generali come in tutte le cose umane poi c'è il più e il meno però la qualità media è alta ora il premio merita appunto di vivere a lungo nel tempo perché ecco ho un premio così oltretutto è stato stampato anche il catalogo del premio il catalogo generale anche della pinacoteca perché qui abbiamo una grande pinacoteca perfetto io l'ho visto è un catalogo di pregio con testi importanti di Genole Duccio Trombatori Sgarbi per cui Sulmona merita certamente questo premio è un fatto positivo ora il referendum del 4 dicembre il movimento per il sì scende a Sulmona in piazza del mercato con il deputato del PD Antonio Castricone vediamo tutto nel servizio spiegare alla gente che la riforma costituzionale impatta anche sulla vita quotidiana questo è il filo conduttore della campagna referendaria per il sì che è approdata stamane nel mercato di piazza Caribaldi a Sulmona la presenza del deputato PD Antonio Castricone e dei componenti per il movimento sinistra per il sì guidati dalla referente Roberta Salvati bisogna entrare nel merito della riforma e non votare a favore o contro Renzi affermò di parlamentare nel corso della sua attività di volantinaggio portare avanti anche sotto la pioggia ridurre il numero dei parlamentari togliere alcuni enti rimodificare l'istituzione complessiva dello Stato penso che sia un elemento di forte natura riformatrice e quindi per questo vado appoggiato a sottolineare l'impatto sociale dell'iniziativa Roberta Salvati unitamente alla sua squadra scendere a mercato significa veicolare il messaggio sondare terreno capire come la pensano i cittadini spiegano dal movimento sostenendo che quella del 4 dicembre sia un'occasione per dare una svolta al paese ed è stato davvero importante anche per capire quali sono le motivazioni che magari spingono i cittadini a votare sì o a votare no e quindi a far fluire il messaggio che ci vuole un cambiamento in Italia far capire come una riforma costituzionale che molti vivono con distanza impatta anche sulla vita quotidiana che è quella poi rappresentata dal mercato quindi è importante anche per assicurare rispetto a alcune voci che per esempio si veicolano la parte del no possiamo permetterci che per prendere una decisione ci vuole due anni insomma e poi le cose cambiano nel giro di qualche millisecondo non è di tanto tempo le borse va a fare nel giro di pochissimo tempo quindi dobbiamo andare verso questo sistema cioè dobbiamo adeguarci ai tempi e invece l'incontro di battito proprio sul referendum costituzionale del 4 dicembre programmato per questo pomeriggio nel teatro comunale di Prato La Peligna è saltato a causa di un grave lutto familiare che ha colpito il senatore Andrea Romano e dunque è rinviato a data da destinarsi ora ci spostiamo nel capoluogo di regione con la rassegna cinema e psichiatria ha partecipato l'incontro di battito su Giacomo Leopardi che ha coinvolto gli istituti cittadini le interviste continua con grande successo di pubblico la quattordicesima edizione di cinema e psichiatria questa mattina la multisala Moviplex il primo di due appuntamenti riservati agli istituti scolastici cittadini giornata particolarmente interessante perché cercheremo di associare il sentimento dell'invidia ad una delle più grandi figure della cultura internazionale cioè Giacomo Leopardi lo faremo naturalmente grazie al film di Martone Il giovane favoloso ma lo faremo anche soprattutto con il contributo scientifico che da sempre psichiatri e psicologi accompagnano alla visione dei film la scelta di questo film per gli studenti è una scelta significativa perché Martone in questo suo bellissimo film ci fa scoprire una cosa importantissima di Leopardi e cioè l'importanza dell'altro l'importanza della relazione con l'altro per superare ogni tipo di difficoltà ci sono le parole bellissime nel film in cui Leopardi dice un suo maestro Pietro Giordani dice ma Firenze senza di te mi sembra vuota io non ho bisogno di gloria dice a un certo punto io ho bisogno di amore ho bisogno di affetto ho bisogno di persone vicine a me e quindi in qualche maniera la scelta della poesia di Leopardi è perché la poesia arriva al cuore e quindi riesce in un solo attimo a renderci vicini fra chi scrive e chi legge e quindi offre un'altra volta come anche altre volte abbiamo fatto in questa rassegna la possibilità di vedere come le relazioni con gli altri siano di per sé terapeutiche siano per sé un qualcosa che riesce a creare benessere e a superare qualsiasi tipo di sentimento anche quello che Leopardi stesso nello Zibaldone definisce il sentimento più asociale di tutti cioè l'invidia all'inizio noi abbiamo utilizzato questa rassegna per superare lo stigma nei confronti della psichiatria adesso la cosa si è un pochino evoluta diciamo siamo passati a cercare di analizzare insieme quei sentimenti che fanno parte della nostra vita quotidiana e che molto spesso non riusciamo a capire non riusciamo a capire perché tante difficoltà in cui ci troviamo sono legate proprio al prevalere di emozioni sentimenti che invece dovrebbero essere un pochino più controllati quindi qual è l'obiettivo fare in modo che i giovani capiscano che dietro la loro quotidianità ci sono dei significati che possono correggere certe abitudini disfunzionali e soprattutto possono dare un'immagine del mondo e della vita un pochino più complessa da quella che normalmente siamo abituati ad avere la camerata musicale sulmonese entrano nel vivo anche i concerti del giovedì Gaetano Trigiglione e Servizi la camerata musicale sulmonese prosegue con i suoi programmi musicali e più in generale di spettacolo giorni fa per i concerti del giovedì ha presentato un giovane musicista nato a Sulmona ma che vive e lavora in Francia si tratta di Davide Dicenzo che si è esibito al pianoporte nella sala azzurra della camerata quali sono gli artisti che lei ha interpretato Beethoven con le variazioni le 32 variazioni in do minore e in seguito Granados Enrique Granados con tre danze spagnole e abbiamo terminato con Chopin e tre preludi e il primo scherzo opera 20 all'inizio del concerto un piccolo omaggio a Pietro Iade Luca che è stato uno dei miei maestri ho iniziato a suonare il pianoforte avevo 10 anni avevo iniziato con il flauto dolce come alle scuole elementari e quindi la maestra aveva trovato che ero molto bravo come mai poi la Francia? in realtà all'inizio ero andato in Svizzera perché mi è piaciuto molto l'Osanna il lago di Ginevra quindi è un posto molto bello vicino le Alpi si vede il Monte Bianco e poi adesso è successo che ho sposato una francese quindi era più pratico vivere nel lato francese perché lei insegnava lì e sono rimasto sempre a vivere quindi lavorare tra Francia e Svizzera attualmente quindi sto vicino a Ginevra i progetti futuri sono un cd verrà fatto su un compositore francese di musiche inedite con l'Accadémie Chablésienne che è un'accademia legata all'Alta Savoia e quindi in seguito un progetto di accompagnamento di film muti e in seguito altri progetti di organizzazioni di masterclass con allievi e altri concerti in Svizzera Francia e Italia ma tornerà qui a Solmona a farci sentire qualche cosina saremo pronti lì ad ascoltarla spero al più presto con gran piacere Sospensione dell'erogazione dell'acqua nel comune di Solmona per la giornata di lunedì 21 novembre dalle 9.30 alle 12 in alcune strade cittadine via San Polo via Don Bosco via Baden Powell via del Cavallaro e zone limitrofe a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rede idrica comunale da parte della SAC a ritorno dell'erogazione fanno sapere dalla SAC potrebbe riscontrarsi la presenza di torbidità dovuta ai normali depositi presenti nelle tubazioni che scomparirà lasciando scorrere l'acqua per breve tempo e ora il calcio con i campionati di eccellenza e promozione vediamo quali sono gli impegni delle squadre Peligni nel servizio di Domenico Berlingeri nella tredicesima giornata dell'eccellenza impegno in trasferta a Martinsicuro per i Nerostellati la squadra di Matteo Di Marzio arriva dalla bella vittoria casalinga contro il Paterno dove ha dimostrato di essere una formazione solida e compatta in tutti i reparti e principalmente in difesa la migliore in assoluto del campionato che ha tra i protagonisti Alessandroni ex di Turono nel confronto di domani al centro dell'attacco mancherà lo squalificato Palombizio ma i pratolani proveranno a sfruttare le ripartenze con Isotti e Vitone veri leader della squadra che sono in grado di sfruttare anche le loro indiscusse qualità sulle palle inattive i Nerostellati avranno comunque di fronte un avversario ostico che si trova attualmente in seconda posizione in classifica e che cercherà di far prevalere il fattore casalingo per i Peligni portare a casa un punticino sarebbe un risultato grandioso per continuare nella striscia positiva che denota il buon momento di forma la squadra del presidente Gianluca Pace si sta dimostrando una neopromossa terribile in grado di dar fastidio alle formazioni più quotate ma il tecnico di Marzio invita a rimanere con i piedi per terra l'obiettivo è quello dei 41 punti siamo a metà di quell'obiettivo qualcuno dice che siamo stupendo io ribadisco che i ragazzi stanno facendo un grandissimo lavoro non mi stupisce più di tanto questo tipo di classifica perché sapevo che avevo all'interno dello spogliatoio dei uomini di valori dei ragazzi che stanno crescendo nel giro nebi di promozione la solmone seofena andrà a far visita alla capolista chietitore Alex i teatini in casa hanno sempre vinto mentre i peligni in trasferta non hanno mai perso ognuna delle due con l'obiettivo di mantenere il proprio ruolino di marcia promette di dare battaglia sarà una sfida stimolante per la squadra di Gabriele Scandurra che sta pensando di fare lo sgambetto alla capolista sicuramente non ci tireremo indietro venderemo cara alla pelle saremo una squadra che andrà lì con uno spirito combattiero e poi insomma loro sicuramente sono i favoriti hanno una squadra di di altra categoria noi andremo a fare la nostra partita consapevoli che comunque abbiamo anche noi un grosso potenziale la squadra sta rispondendo appieno alle direttive del tecnico capace di gestire in generale il gruppo strappare un punto al chietitore Alex che finora ha sempre fatto prevalere la legge dell'Angelini rappresenterebbe un risultato importante da metterci la firma alla vigilia è meglio attendere domani perché in partita del genere è lecito aspettarsi di tutto chietitore Alex sul Monesio Fena sarà diretta da un arbitro di fuori regione Giuseppe Girgenti di Agrigento gara casalinga per il Raiano che ospiterà il Fossa Cesia la squadra di Antinucci non vince tra le buramiche da due mesi mentre il Fossa Cesia sta dimostrando di essere ripresa con l'obiettivo di guadagnare un posto nei playoff il Raiano cercherà di tornare a far punti per imporsi nella lotta salvezza domani nei Readesi mancherà lo squalificato di Mascio nel camionato di terza categoria Lovidiana sale al primo posto in classifica in forza del successo ottenuto oggi contro la ferroviaria battuta per 4 a 0 servizio Lovidiana batte la ferroviaria per 4 a 0 e guadagna la prima posizione in classifica grazie anche alla sconfitta del Roio con il Bocca di Rino per 4 a 3 la squadra degli Ultras è uscita tra gli applausi del pubblico a corso numeroso al Pallozzi per il derby di terza categoria che ha messo di fronte i Biancorossi e le vecchie glorie del Sulmona Calcio Federico Bonomo Alberto Virtuoso e Loreto De Kellis nei loro confronti tanti applausi chiesti prima dell'inizio del secondo tempo dal tecnico dell'Ovidiana Luigi Dionisi questo regalo sia dell'Ovidiana sia da parte mia ho avuto la fortuna di giocare con Federico Bonomo che è una grandissima persona prima di tutto e poi è un grandissimo giocatore penso che sia stato il minimo sia stato il minimo per quello che hanno dato a questi colori alla città sempre di Sulmona è meritato meritatissimo gli applausi fanno sempre piacere noi abbiamo una certa età come si vede ci divertiamo ancora a giocare a pallone solo l'unica cosa che possiamo dire a questi ragazzi di avere passione come ce l'abbiamo noi l'unico messaggio nostro è questo qua poi si vince si perde noi siamo contenti sempre l'importante è che non ci facciamo male per buona parte del primo tempo gara sostanzialmente equilibrata chi ha fatto registrare pochi sussulti il primo con di giovani che è bravo a prevalere sul virtuoso ed in aria il suo tiro viene deviato in corner da De Santis poi un calcio di punizione a testa senza esito e al diciannovesimo il primo vero tentativo con una rovesciata di Romanelli che manda sull'esterno della rete alla mezz'ora si vede la ferroviaria in due circostanze prima quando l'ex dell'Ovidiana Massimo Di Pietro appoggia per Valeri ma la sua conclusione finisce alta e successivamente sfiorando il gol con un colpo di testa di Bonomo ma il salvataggio sulla linea di Sclocchia fa rimanere il punteggio sulla parità l'Ovidiana dopo essersi salvata in questa circostanza passa in vantaggio al 38esimo quando Luci manda in aria per la testa di Romanelli che sigla l'1-0 che chiude il primo tempo nella ripresa nella ferroviaria entra Imperatore al posto di Lerario ma al terzo minuto c'è il raddoppio dei padroni di casa ancora con un colpo di testa di Romanelli questa volta dopo una punizione di Lavella per la doppietta dell'attaccante che nella classifica Cannonieri arriva a quota 10 gol all'undicesimo c'è il 3-0 su calcio di rigore assegnato per un fallo in aria su Romanelli dopo un calcio di punizione dal dischetto Luci spedisce a rete Lovidiana chiude i conti al quarto d'ora con un tiro da fuori aria di Turco per il 4-0 definitivo da qui sino al termine solo sporadiche conclusioni ma la più insidiosa al quarantatresimo con Di Bacco che costringe Sciore alla parata in due tempi il successo vale il primato in classifica per Lovidiana che sabato prossimo giocherà a Capestrano lo scontro diretto con l'altra capolista il roglio mi hanno detto che ha perso con il Bocatirino quindi siamo primi dobbiamo continuare su questa linea il campionato è ancora lungo ancora non abbiamo fatto assolutamente niente al termine insieme ai festeggiamenti negli spogliatoi c'è stata l'estrazione dei biglietti della lotteria promossa dall'Ovidiana per autofinanziarci ebbene anche questa sera ci siamo perché arriva alla fine del Tg il momento della buona notizia un coro per assecondare talenti nascosti una compagnia teatrale per da sfoggio alla verve incontri sulla salute e l'alimentazione gite fuori porta e pranzi sociali si preannuncia ricco di novità e iniziative il nuovo anno sociale del centro anziani di Sulmona che scatterà dal prossimo gennaio il presidente Giacomo Spinosa ha reso noto l'apertura dei tesseramenti già dal prossimo primo dicembre ci si potrà iscrivere presso la sede dell'ex caserma pace da lunedì al venerdì escluso ai giorni festivi dalle ore 16 alle ore 18 le iscrizioni si chiuderanno il 20 dicembre aggregazione divertimento impegno nel sociale sono i tre assi portanti del centro anziani che con le sue numerose attività si sta affermando come una realtà viva e operosa sul territorio comunale a rimarcarlo è proprio il presidente Spinosa che anticipa a onda TG il programma del 2017 abbiamo programmato due gite fuori porta quattro pranzi sociali attività di ginnastica e scuola di ballo un nuovo coro e una nuova commedia per i nostri attori annuncia Spinosa specificando che molte delle iniziative subentreranno nel corso dell'anno vista la palese collaborazione del centro anziani con le associazioni culturali del territorio oltre alla tessera di iscrizione ai nuovi soci sarà consegnato in omaggio un calendario è proprio il caso di dire che nell'ex caserma pace si diventa giovani per la seconda volta Ebbene era questa l'ultima notizia la prossima edizione lunedì alle 13.30 vi ricordo però alle 21 la replica della rubrica religiosa il respiro dell'anima grazie per essere rimasti con noi a tutti buon fine settimana e buona domenica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti